Un luogo aperto a tutti e un punto di collegamento tra il teatro e la città. È l'obiettivo della società palchettissi del Teatro Sociale di Como che torna ad aprire gli interni della Sala Bianca e grandi concerti. Abbiamo preparato un evento sinfonico, è un po' una particolarità per la Sala Bianca. Di solito si fanno eventi da camera e quindi con pochi elementi che suonano. Qui invece ci sarà una vera orchestra, saranno più di 20 orchestrali diretti dal maestro Stefano Nigro e al pianoforte abbiamo la pianista Noemi Serrano. Emozione, storia e cultura si uniscono nel concerto sinfonico alla corte di Hayden dedicato all'epoca d'oro del classicismo ed in particolare al grande musicista di corte che per una sera diventerà il principe del ridotto del teatro. Qui ricordiamo il primo dei grandi classici che era Hayden che ha preceduto Mozart e poi il più giovane Beethoven che è un po' il padre della sinfonia. L'evento patrocinato dal Comune di Como, Regione Lombardia e Confindustria Como si svolgerà sabato 9 novembre alle ore 19.